I quattro cani più pericolosi del mondo. L'ultimo è un vero terrore. Numero 4. Il pastore tedesco. Originario della Germania. Questa razza pesa tra i 30 e i 45 chili. I pastori tedeschi sono riconosciuti per la loro intelligenza, sicurezza, vigilanza e a volte natura selvaggia. Sono frequentemente utilizzati dalle forze dell'ordine. Numero 3. Il pitbull. Considerato uno dei cani più pericolosi al mondo, i pitbull hanno causato la morte di 203 americani e inflitto gravi ferite a 305 persone negli Stati Uniti tra il 2005 e il 2014. Numero 2. Il boxer. Questo cane eccezionalmente massiccio, che può pesare fino a 60 chili, è principalmente composto da muscoli. A causa della sua predisposizione genetica alla guardia e al gregge, sono ampiamente considerati molto pericolosi. D'altronde, dimmi nei commenti se hai mai incontrato uno di questi cani. Numero 1. Il Rottweiler. Questa imponente razza tedesca è conosciuta per le sue dimensioni, la sua forza e il suo potenziale pericolo. Pesi fino a 60 chili, i Rottweiler possiedono una costituzione muscolare e istinti naturali di guardia e di gregge, contribuendo ancora di più alla loro percezione come minaccia.